Barbara, come sempre, apriamo la puntata con l'amica Silvia Pagni e il suo oroscopo musicale. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dei gemelli nasceva un conduttore televisivo soprannominato il re dei quiz. «Torre più volte non è una riemp мясa progetto dicendo che tutto this tollerà per uscire le qualità per potreste divinunciare la face. Li riverlli di geezerps island areBig summit e non è una rua. Platto a tutti all tuoi liазmatica per il sole delέto building è la tua creativainizia di tutte le vizierci per il tempo. L'acacia Re vitale di Pagni dell'atzotzallaho nasceva Mike Bongiorno. Figlio dell'avvocato italo-statunitense Philip Bongiorno e di mamma torinese Enrica Carello, figlia di industriali che producevano fari per automobili Carello. Mike Bongiorno da giovane voleva diventare giornalista e iniziò presso a lavorare per le pagine sportive di La Stampa, ma durante la Seconda Guerra Mondiale fu costretto a abbandonare gli studi. Durante la guerra si trasferì in montagna, a confine con la Svizzera e fece la staffetta per la resistenza portando messaggi tra i partigiani e gli alleati inglesi e americani che si trovarono nel paese elvetico. Nel 1944 venne catturato dalla Gestapo, stava per essere fucilato, ma i tedeschi trovarono il suo passaporto americano e arrestarono Mike Bongiorno per diventare pedina di scambio per liberare soldati tedeschi prigionieri degli americani. E nel febbraio del 1945 fu liberato prima della fine del conflitto, grazie a uno scambio di prigionieri di guerra tra Stati Uniti e Germania. Terminato il conflitto, ritornò a New York e riprese il giornalismo e inizia a fare servizi dagli Stati Uniti per la Leijar, attuale RAI. Nel 1953 inizia a lavorare per la RAI, per il radiogiornale. E nel 1955-56 presenta alla radio il programma Quiz, il motivo in maschera, con l'orchestra diretta da Leo Luttazzi. Tra il 1967 e il 1970 Mike Bongiorno condurrà la trasmissione radiofonica preserale Ferma la musica, con l'orchestra diretta sempre da Gorni Kramer. Mike Bongiorno dà il via al primo quiz televisivo italiano, Lascia ora doppia. Il programma ottiene subito un ottimo riscontro di pubblico e Mike diventa molto popolare, contribuendo all'aumento delle vendite di televisori e del numero di spettatori. Dato il clamoroso successo della trasmissione, nel 1956 viene prodotta anche la commedia Totò, Lascia ora doppia, che lo vede protagonista l'attore e comico napoletano nel ruolo di un nobile decaduto che partecipa al programma come concorrente. Nel 1970 lancia un altro quiz, Il rischia tutto, a fianco di Sabina Ciuffini, che diventa un successo che durò cinque anni di programmazione televisiva. E nel 1977 Mike Bongiorno passa alla Fininvest, dove conduce programmi di quiz che sono entrati nella storia come Flash, La Ruota della Fortuna, Beast, Super Flash, Parole d'Oro, Tele Mike e Pentalon. La Ruota della Fortuna divenne uno dei programmi più longevi, infatti trasmesso dal 1989 al 2003. Mike Bongiorno, oltre ad essere conduttore dei quiz, diventa conduttore di programmi musicali come C'era una volta il festival e Bravo Bravissimo, dedicato alle esibizioni canore dei bambini. Le sue ultime trasmissioni sono state Genius, dedicato ai bambini e un telequiz Il Migliore, che sono andati in onda dal 2003 al 2007 su Rete4. Nello stesso periodo si forma la coppia Fiorello e Mike, che diventano testimonial di spot pubblicitari. Ora alcune curiosità del grande Mike Bongiorno. Lui è stato sposato per ben tre volte e con la sua ultima moglie Daniela ha avuto ben tre figli. È stato un grande tifoso della Juventus, era appassionato di tennis e sci alpino, per quale fondò il trofeo Topolino. Ha vinto più di 20 Telegatti, ultimo ricevuto nel 2006 per i suoi 60 anni di carriera. Ed ora alcune sue citazioni. C'è una cosa che non dobbiamo dimenticare. Quelli del nostro campo, gli artisti, non si ritirano. Gli artisti muoiono sul palcoscenico. Un'altra sua citazione. Senza una salda fede in Gesù e nella religione non avrei mai e poi mai potuto superare i momenti bui della mia vita. Una citazione su Fiorello. Con Fiorello farei qualunque cosa, ci inventiamo tutto noi e ci divertiamo un sacco. Il 3 settembre 2009 Mike Bongiorno fece la sua ultima apparizione in un programma Sei più bravo di un ragazzino di Quintà, un programma in onda su Sky. Mike Bongiorno muore a 85 anni per un infarto mentre era in vacanza a Monte Carlo. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani. Un grande grande abbraccio da me Silvia Pagni e buon di pomeriggio. Ciao a tutti!